Buonasera, buonasera e buon 2013, oggi 4 gennaio 2013 apriamo questo nuovo anno di trasmissioni di liberi tv in modo consueto con la virgola in capo a queste trasmissioni in questa serata di dirette. Mentre l'Italia si appresta a fare intravedere ai suoi cittadini elettori lo scenario che le forze politiche offriranno loro al momento delle elezioni, fornendo un po' di luce nelle tenebre in cui stazionano mestamente proclami di riformismo, di rigorismo, di svolte imminenti, di autoproclamazione, di outsider sedicenti onesti e capaci, mentre accade tutto questo io ho pensato di trascurare tutto ciò in questa virgola per commentare con voi un fatto o una serie di fatti che diventano un altro evento nella loro presentazione mediatica e nella visibilità che hanno sui media. Sto parlando della scoperta, almeno per me, della grave situazione in cui verte la vita e la condizione delle donne in India. L'India paese emergente, l'India che è una delle potenze economiche accreditate come protagonisti nei prossimi decenni, protagonisti a livello globale, nell'economia, nell'industria. È un po' di settimane che i media diffondono notizie su di stupri e di maltrattamenti sulle donne che avvengono con grande frequenza in questo grande paese, peraltro di antiche e nobili tradizioni culturali. Qualche premessa è doverosa, stiamo parlando di un paese che ha più di un miliardo di abitanti, che pur si è affacciato di recente nella top ten delle potenze mondiali da un punto di vista economico e industriale, ha visto come altri paesi con simile progressione uno sviluppo economico e sociale piuttosto disomogeneo. Tra le premesse mi sento anche di citare qualche considerazione che ho dedotto qui e lì, leggendo sul web di questi avvenimenti violenti a scapito di donne, spesso giovanissime, cioè che un po' di tale attenzione mediatica, quasi una sovraesposizione, in Italia sia in parte almeno una reazione alla vicenda dei due marò italiani detenuti nel Kerala, di cui ci siamo occupati un po' di virgole fa. Una reazione tesa un po' per quanto possibile a mettere in cattiva luce questo paese. In effetti le notizie su singoli casi di stupri e violenze sulle donne in India sono numerose e certamente il fenomeno della notizia non notizia un po' c'è, cioè parlo dell'attenzione sensazionalistica per una non news, perché questi fatti non sembrano siano assimilabili ad una recrudescenza di violenza sulle donne, piuttosto invece sembrano assimilabili ad un fatto sistemico che trova radici in una cultura evidentemente attollerato, ma forse ha anche ispirato fin dal sistema delle caste un trattamento iniquo della donna. E allora possiamo affermare che l'attenzione mediatica su questa questione sia inutile o faziosa, una speculazione inutile per vendere i giornali o magari per essere strumentalizzata politicamente. Non so, io adesso sinceramente non ho una risposta a questa domanda, però penso, mi sono fatto l'idea che una qualche utilità la possa avere. L'utilità di far emergere un costume sociale che a quanto pare non poteva essere ignorato dalle classi governative in carica e quindi neanche da Sonia Gandhi, per esempio, leader del congresso indiano, che è il principale partito dell'India, peraltro partito che è al governo. In tal senso infatti si cominciano a sentire delle voci di velata critica per aver fatto poco contro questi fatti tanto diffusi quanto noti. L'esposizione mediatica internazionale su queste vicende, che oserei definire incivili tradizioni, potrebbe essere una spinta per l'India stessa per abbandonarle, in quanto globalmente non sono più accettabili delle prassi discriminatorie per sesso. Abbandonare non solo la consuetudine, che quanto pare è così diffusa largamente, endemica a dirle, violenze sulle donne, ma anche altre consuetudine non proprio liberali e non tanto meno democratiche, come per esempio l'usanza dei matrimoni combinati, che pare, leggendo un pochino, è un costume che si sta lentamente diluendo nel tempo, ma anche per esempio l'usanza degli aborti selettivi, nel caso di feti di sesso femminile, l'usanza della quasi segregazione a cui sono costrette le donne in caso di abbandono da parte del marito o in caso di vedovanza. Insomma, come spesso accade, la sopraesposizione mediatica, anche se non scopre fatti nuovi, può avere una funzione innescando nell'opinione pubblica e nel cedo dirigente del paese dove gli alifanti accadono sia il dibattito, sia la presa di coscienza nell'opinione pubblica e nel cedo dirigente del paese dove accadono questi fatti, che sono stati trascurati per troppo tempo e che sono degli abomini liberticidi. Quindi una rifrazione sociale e culturale, perché da ciò potrebbe venire un miglioramento, non certo, almeno non solo da politiche giudiziarie che partoriscono, abbiamo visto leggendo un po' qui, delle condanne esemplari, c'è qualcuno che inneggia appena di morte, cose di questo genere, di cui purtroppo si ha notizia, perché purtroppo il rispetto alla libertà e il rispetto delle persone non è una cosa che si impartisce con sentenze. La speranza e un pochino anche la fiducia che possa accadere, io la estenderei anche ad altro, sarebbe bello che i lettori, anche quelli che leggono con più morbosità tra un particolare raccapricciante e l'altro, in un momento di lucidità e autocoscienza, si chiedessero se quei comportamenti, quelle tradizioni così liberticide della concezione della donna, appunto siano proprio soltanto di paesi lontani ed emergenti, oppure anche dell'Italia, che non è certo emergente, ma direi più che altro affondante. In tal caso della morbosità si passerebbe alla riflessione, ed evidente sarebbe il valore etico dell'informazione. Direi di non mettere limiti alla provvidenza, come di questi tempi direbbe qualcuno, e confidiamo che le notizie di quei fatti avvenuti nel paese dell'Indo possano aiutarci anche a riflettere sulle tradizioni liberticide che affliggono l'Italia in tema di rapporti uomo-donna. Vi lascio con questa riflessione, che spero appunto susciti un po' di dibattito sul nostro sito e ovviamente volendo anche su YouTube dove verrà archiviata questa virgola, come tutte le altre trasmissioni di Libri TV. A questo punto io ringrazio per questa serata la regia Donato Volpicella per la regia di questa serata e ricordo che Libri TV è un'associazione, ve lo devo ricordare anche del 2013, è un'associazione che si autosostiene e che quindi sarebbe credito ovviamente che vi iscrivesse e ci deste una mano da un punto di vista non solo economico a realizzare appunto queste trasmissioni. Volevo indicare che in fine anno 2012 abbiamo inserito dei nuovi video, nel caso non mi siete accorti, volevo indicarvelo, grazie a delle collaborazioni tra virgolette esterne che in qualche modo sono state abbastanza fruttuose e abbiamo realizzato delle interviste interessanti e anche abbastanza gradite come visualizzazioni, se queste possono essere indicative su YouTube. A questo punto io passerei a illustrarvi il parincesto di questa serata. Dopo la virgola del direttore, intorno alle 20.45, lo spazio Certi Diritti, intitolato Diritti Legati, spazio Certi Diritti a cura di Riccardo Cristiano come di consuetudine e ci sarà una conversazione questa sera con l'avvocato Emilio Martucci che se non sbaglio è un esponente dell'Associazione per la Grande Napoli. Alle 21.15 lo spazio Economia e Mercati, Open Market, lo spazio di commento e analisi sull'andamento dei mercati finanziari a cura di Alfredo Pauciulo. Alle 21.45 a tavola con i libri, le note di lettura a cura di Giancarlo Calciolari, questa sera è intitolato Rivoluzione Antirealista e sarà una nota di lettura su un libro che si intitola Delle realtà, fini della filosofia, un libro di Gianni Mattimo, Garzanti, editore, un libro del 2012. Alle 22.05 voci transnazionali, ci sarò io che condurrò questo spazio, questa sera parleremo di Siria e avremo ospite con noi sulla questione siriana, ovviamente Shadi Amadi, giornalista che ormai conoscete, ospite gradito di Libri TV già più di una volta, alle 22.35, sperando di riuscire a rispettare senza problemi questo ordine e questi orari, leggera euforia, lo spazio di notizie, approfondimenti dal panorama antiproibizionista a cura di Claudia Stersi, segretario dell'Associazione Radicale Antiproibizionisti. Più o meno verso le 23.10 prevediamo di chiudere le trasmissioni. A questo punto io vi ringrazio, ringrazio tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta e che ci seguiranno, restituisco la linea alla regia e vi do appuntamento ovviamente alla prossima trasmissione, lo spazio Certi Diritti, noi ci rivediamo con voci transnazionale alle 22.05. Grazie ancora.